Amici dell'universo WWE, avete l'occasione della vita a diventare la prossima stella NXT, una superstar. Lio? Lio, così farai tardi. Ragio, ragazzo, è ora di alzarsi. Sono sveglio, papà. È già in piedi. Il nostro piccolo Lio vuole essere una superstar della WWE. Ehi, ridammelo, molla! Tanto ti prendiamo, Thompson! Wow, i poteri di questa maschera si manifestano solo ai lottatori meritevoli della sua magia. Oh, no, 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 no! Che è successo? Questa maschera prende quello che ho dentro di me e lo rende unico. Ragazzi! Ora ti spacco la faccia, secchio! Dovete lasciarli stare. È stata la cosa più ficca che mi sia capitata. La WWE terrà un torneo con la formula Chi vince prende tutto. Il vincitore riceverà un premio di 50.000 dollari. Sì, ci piace, vedi! Quello là affronterà quel gigante là? Creerò il caos, fratello! Abbiamo iniziato adesso e sei già così sudato! Non domandare quando non vuoi la risposta! E l'ultimo finalista è... Kid Chaos! Sarà più facile del previsto. Sto scherzando. Auguri a nessuno di voi! Non è una maschera magica che farà di te una persona forte. La vera forza viene da qui. E da qui. Uuuh! Bazzista! Incredibile! Eccolo fa il suo ingresso, Samson! Benvenuti a questo grande evento! Caspita, sei davvero affamato. Va tutto bene? Ho bruciato tantissime calorie. Oh, yeah!